Il nostro imprenditore Peppino Durgoni I suoi spot su TV Prato sono diventati un cult Piano lavoro sicuro in 4 anni e 50% in meno di dormitori abusivi Ma resta ancora molto da fare Tutto pronto per il Festival Settembre Prato e Spettacolo Si comincia domani con il concerto di Caparezza Una buona giornata dalla nostra redazione Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato Lutto nel mondo dell'imprenditoria è deceduto infatti Peppino Durgoni Titolare dell'omonima ditta di Spurgo Insignato del titolo di Cavaliere del Lavoro Durgoni è divenuto popolare anche grazie agli indimenticabili spot Andati in onda nel corso degli anni su TV Prato Avete sentito? Questi sono fatti e non parole Perché Peppino Durgoni è competenza Qualità, risparmio e soprattutto onestà Si è spento all'età di 80 anni Peppino Durgoni Uno dei personaggi più conosciuti in città E storico protagonista di alcuni spot esemplari Trasmessi da TV Prato Cavaliere del Lavoro è stato un imprenditore Che ha saputo costruire nel tempo Un vero e proprio marchio di fabbrica Attorno alla sua attività La sua ditta, la Peppino Durgoni Spurghi È nota a Prato E ha conquistato intere generazioni di pratesi Grazie alla professionalità e alla simpatia del titolare Testimonia l'indimenticabile delle pubblicità Trasmesse sugli schermi dell'emittente cittadina Nato in provincia di Nuoro da un'umile famiglia Fratello maggiore di altri sette Peppino iniziò a lavorare presto Già all'età di 9 anni Prima come pastore in Sardegna Al fianco del padre Poi complice il servizio militare Decise di spostarsi in Toscana All'inizio degli anni 60 Prodò a Prato Dove dopo aver svolto per un periodo Ancora l'attività di pastore Capì che il suo futuro sarebbe stato quello di imprenditore Nel settore dello spurgo Comprò un camion usato Iniziò la sua avventura Sempre supportato dalla moglie Giovanna Incominciò a muovere i primi passi Col figlio primogenito Alessandro Scomparso nel 2016 Oggi vi lavorano gli altri due figli Massimo e Roberto Peppino era innamorato della sua terra d'origine Ma profondamente grato alla città di Prato Che lo aveva adottato e accolto Qui lo vediamo in una delle sue ultime uscite pubbliche Lo scorso gennaio al teatro Metastasio In occasione della grande festa Per i 40 anni di TV Prato Sul palco non si era sottratto Allo scherzo e all'ironia Che da sempre lo caratterizzava Prato mi ha dato tutto Se avessi le braccia lunghe Mi abbracerei tutti Prato è la mia città La Sardegna li voglio bene Ma quello che mi ha fatto diventare uomo E Prato E questo consiglio li ho dato a miei figli Allora platea Ho bisogno di voi Dall'allogione Dai palchi Tutto Facciamo il tuo slogan insieme Ok? Al 3 2 1 Chiamatemi Diventeremo amici A presto I funerali si terranno questo venerdì Alle 11 a Mezzana La salma sarà esposta fino a domani Nei locali della Croce d'Oro È stata trasmessa anche alla procura distrettuale di Firenze La notizia del ritrovamento di un trolley Sospetto rinvenuto sotto il loggiato del comune di Prato Da un agente di polizia municipale Nella giornata di domenica La valigia conteneva nella fodera interna Due scritte tracciate con una vernice rossa Da una parte una stella a 5 punte Dall'altra la scritta BR Simboli e riferimenti inquietanti Su cui indagano gli inquirienti Ma che hanno spinto la procura di Prato In particolare il procuratore capo Giuseppe Nicolosi A informare anche i colleghi di Firenze Competenti per eventuali reati relativi al terrorismo Non si esclude che l'episodio del trolley Possa essere collegato alla scritta minatoria Contro il sindaco Comparsa il 20 agosto scorso Sulla facciata del palazzo comunale E intanto questa mattina è stata scoperta Anche una nuova svastica dipinta Da ignoti stavolta sul muro del museo Del tessuto all'ingresso della biblioteca Lazzarini in via Puccetti L'amministrazione comunale condanna Fermamente ripetersi di episodi di vandalismo Attraverso scritte che esprimono Intolleranza razziale O adesione a ideologie nazifasciste Senza contare il danno Fatto ad un bene pubblico Appartenente all'intera comunità L'inciviltà di pochi Offende le tradizioni della città E comporta uno spreco di denaro pubblico Per i continui interventi di ripulitura Delle scritte afferma il comune E cambiamo argomento Con il piano lavoro sicuro I dormitori abusivi all'interno Dei capannoni cinesi Sono diminuiti del 50% Le sanzioni pagate Ammontano ad oltre 14 milioni di euro Molto però resta ancora da fare Sentiamo L'ultimo sequestro riguardante Una ditta di confezione a Carmignano Nella quale i lavoratori lavoravano E vivevano È solo l'ultimo intervento Della squadra Dei tecnici della prevenzione E già in sicurezza Nei luoghi di lavoro Che opera all'interno Del piano lavoro sicuro A distanza di 4 anni Dall'inizio del piano Nonostante la riduzione Delle condizioni di promiscuità Tra ambienti di vita e di lavoro Permangono ancora Soprattutto in alcune aree periferiche Situazioni che espongono I lavoratori a rischi elevati Nella task force di lavoro sicuro Operano 74 tecnici della prevenzione A 4 anni dall'inizio dei controlli Mediante 45 uscite settimanali Degli operatori della prevenzione Assistiti in oltre l'85% dei casi Dalle forze dell'ordine O da altri enti di controllo Sono state controllate 11.500 imprese Con una percentuale Dell'84% di ottemperanza Le prescrizioni E oltre 14 milioni di euro Di sanzioni pagate Secondo i dati forniti dall'ASL Raffrontando quanto emerso Durante la prima fase Che va da 2014 a maggio 2017 L'attuale seconda fase dei controlli I dormitori abusivi Sono diminuiti del 50% Gli impianti elettrici Non a norma Del 70,7% Le notizie di reato Relativa a irregolarità Sulla igiene e sicurezza Sono calate Del 63,1% Molto però resta ancora da fare Per consolidare ulteriormente Il progetto La giunta regionale Ha recentemente previsto Lo sviluppo dell'attività Fino al 31 dicembre 2020 Resta attivo inoltre Il numero verde Per le segnalazioni di case fabbrica 800-01-78-35 Per cercare di portare alla luce Un altro problema Ovvero lo spostamento Delle attività produttive All'interno delle abitazioni Lo scorso anno L'incendio di un'abitazione Trasformata in fabbrica Alla tegnamica Caso alla morte di due persone I carabinieri di Carmignano Hanno arrestato Un 45enne pregiudicato Dando esecuzione All'ordinanza di custodia Cautelare in carcere Messa dal tribunale di Pistoia Gli stessi carabinieri di Carmignano Erano intervenuti All'inizio di agosto Per un episodio di violenza Accaduto a Prato Che aveva coinvolto L'uomo e l'ex convivente L'indagine hanno poi permesso Di ricostruire Che maltrattamenti in famiglia Duravano dal 2016 E anche dopo la separazione Il 45enne aveva continuato A perseguitare la sua ex Sono dovuti intervenire Gli specialisti Del nucleo speleo Alpino fluviale Dei vigili del fuoco Per recuperare Un trentenne caduto Nel Bisenzio E' successo ieri sera Verso le 23 All'altezza di Viale Marconi L'uomo che probabilmente Era stato al vicino Luna Park Ha perso l'equilibrio Mentre camminava Lungo l'argine Finendo nel fiume Soccorso dai vigili del fuoco E dal 118 E' stato trasportato All'ospedale In codice giallo Conto alla rovescia Per il Festival Settembre Prato E Spettacolo Si comincia giovedì sera Con il concerto di Caparezza I particolari Nel servizio di Giulia Ghizzani Quarto anno consecutivo Per il Festival Settembre Prato E Spettacolo Organizzato da Fonderia Cultarte In collaborazione Con il Comune di Prato TV Prato Anche per questa edizione Sarà media partner Della manifestazione Che punta su un format Più concentrato Grande musica nazionale e internazionale Da giovedì 30 agosto A lunedì 3 settembre In Piazza Duomo Dove da alcuni giorni Sono in corso Le operazioni di allestimento Di palco e tribune L'apertura del cartellone Per cui ci si aspetta Il sold out Sarà affidata All'esplosivo Caparezza Che torna in città Dopo tre anni Con il suo nuovo tour Si continua venerdì 31 Con l'unica data italiana Dei The Darkness Un concerto molto divertente Di rock Che potremmo definire glam Molto popolare Il primo settembre È una esclusiva Per la nostra città Un concerto molto particolare Che inizierà alle 19.30 Che vedrà alternarsi Tre band mondiali Si comincia con i Blonde Red Dead Poi Deus è a chiudere Gli Esturzende nei Bauten Un concerto per cui Sappiamo che verranno Diversi spettatori Non solo da tutta Italia Come già accaduto Nelle precedenti edizioni Ma anche dall'estero Il 2 settembre e domenica In Piazza del Duomo Alle 21 Invece ci saranno Gli Zen Circus A Toys Orchestra E poi concludiamo I concerti A pagamento del festival In Piazza del Duomo Lunedì Con Cristiano De Andrè Che canta Il meglio Dei brani Appunto di Faber Compresi alcuni Dell'album Storia di un impiegato Il 4 settembre Sempre a due passi Dalla cattedrale Spazio invece Al tradizionale concerto A ingresso gratuito Della Camerata Strumentale Che non sarà sola Per l'occasione Darà una vera E propria festa In musica Perché assieme Agli orchestrali Della Camerata Al suo Al completo Con il maestro Jonathan Webb Alla direzione Ci saranno 300 coristi Della città di Prato 160 Dei cori cittadini Oltre a 120 Bambini appartenenti A cori in gran parte Della scuola di musica Verdi Torna poi anche La piazza dei piccoli In Santa Maria In Castello Con giochi Laboratori E spettacoli Per tutti i giorni Per tutti i giorni del festival Fino alle 21 Ma la Kermes Prevede altri eventi speciali Disseminati tra la terrazza Di Palazzo Pretorio E la sala Garibaldi Dell'ex cinema Excelsior Chiusa ormai da nove anni Questa sarà riaperta Eccezionalmente Prima della prossima Ristrutturazione Nella giornata Di domenica 2 settembre Alle 18 Roberto Angelini E Rodrigo D'Erasmo Omaggeranno L'enorme talento Di Nick Drake Con il concerto Way to Blue In città Gli alberghi Hanno dato disponibilità Per accogliere il pubblico Per un totale Di 600 camere Il costo totale Del festival Ammonta a circa 500 mila euro Pesa ovviamente L'assenza del contributo Dello storico Sponsore S.Lunga L'amministrazione comunale Contribuisce con 54 mila euro All'ordo Nonostante La mancanza di S.Lunga La raccolta Di sponsorizzazioni La partecipazione A un bando Regionale E l'investimento Proprio del concessionario Sulla base del bando Che il comune ha fatto Nel 2016 Hanno consentito Di mantenere Un'edizione Di assoluto livello Del festival Così come anche Nel 2019 Sono sicuro che sarà E passiamo adesso Allo sport Al basket Sibe Prato Di nuovo al lavoro Squadra rinnovata Ma l'obiettivo Resta lo stesso Il salto di categoria Ce ne parla Giancarlo Gisonni Vacanze finite Per la Sibe Prato Che ha ripreso Gli allenamenti Alla palestra Toscanini In vista della nuova Stagione agonistica Che partirà ufficialmente Domenica 9 settembre Con la Coppa Toscana In casa Contromontale Squadra rinnovata Dopo i saluti Di Capitan Corsi Che ha attaccato Alle scarpe al chiodo Dopo oltre 700 gare All'attivo Di Marchini E Vannoni Per il sesto anno Consecutivo La squadra affidata A Coach Pinelli Che avrà ancora Come assistente Massimo Fusi Quest'anno Partiamo con Un gruppo nuovo Perché salutiamo Delle colonne portanti Del nostro gruppo Che hanno fatto la storia Nella nostra società Come Iaupo Corsi Filippo Vannoni E il nostro mitico Fisioterapista Giovanni Limberti Che però Insomma Saranno Saranno sempre con noi E faranno il tipo Per noi Anche durante l'anno Quindi Uno stimolo in più Per continuare a far bene L'anno scorso Siamo arrivati in finale E quest'anno Ci vogliamo tornare E poi dopo Ce la vogliamo rigiocare Perché Ce l'abbiamo un pochino Ancora Ancora qua A raccogliere la pesante eredità Lasciata da Capitan Corsi Sarà Tony Biscardi Altro pilastro Dei Dragons È una bella eredità Sono orgoglioso Di raccoglierla Da questo Prima che grande giocatore Grande amico Perché ormai Ci conosciamo Da una vita E abbiamo giocato Una vita insieme Sì orgoglioso Spero di fare bene Come lui Insomma Sarà un bel campionato Il livello si è alzato Ponte Della Scesa Però C'ha giovani interessanti Quindi il livello Sembra ancora Più alto Noi comunque Come sempre E come la società Ce la metteremo tutta Faremo gruppo Lavoreremo sodo E nulla Sodo in palestra E andiamo avanti Da registrare I due colpi di mercato In entrata L'esperto pivò Filippo Tahiti 38 anni Per lui si tratta Di un ritorno a casa E il play Alessandro Danesi Entrambi inseguiti Da mesi Dalla società Rosso Blu Diciamo Sono state due trattative Lampo Perché Alessandro Danesi Ha accolto Molto volentieri La nostra proposta E in Diciamo In giro di qualche giorno Ha accettato Con Filippo Tahiti Sinceramente Non c'è stata neanche Una trattativa Abbiamo detto Guarda Abbiamo bisogno Di un sostituto Di Acopo E lui mi ha detto Sì vengo La squadra c'è Sono venuto anche qua Diciamo apposta Il progetto è importante Giovani Che si affacciano Alla Serie C Silver Quindi ci sarà Anche da farli crescere Ma Insomma Per me E per la squadra E la società L'obiettivo primario Sia quello di Salire di categoria Prima di campionato Nel fine settimana Del 6 e 7 ottobre E dal momento Delle previsioni Del tempo Ci colleghiamo Con la sala meteo Del Consorzio Lama Per tutti gli aggiornamenti Del caso A voi la linea Buona giornata A tutti Un saluto Dalla sala meteo Del Consorzio Lama Le ultime immagini Che ci giungono Al satellite Ci mostrano Il transito Di una moderata Perturbazione A nord Dell'arco alpino Perturbazione Che porta Soltanto Qualche velatura Invece Sulle zone Del centro Italia Nel corso Della giornata Di domani Si avvicina Un po' La saccatura Che poi Potrà dar luogo A qualche fenomeno Nei prossimi giorni Anche sulla nostra regione Andiamo a vedere La previsione Per il pomeriggio Di oggi Abbiamo detto Velature in transito Cielo sereno O poco nuvoloso Con venti Che tendono Nel corso Il pomeriggio A disporsi Da maestrale Lungo il litorale Saranno invece Deboli Variabili Sulle zone interne Il mare Tende a muoversi Un po' Proprio a causa Di questo maestrale Sul settore centrale Temperature massime Stazionare Un lievamento Fino ai 34 gradi Per quanto riguarda La giornata di domani Inizialmente Qualche pioggia Sarà possibile Sul nord ovest Fra la Versilia Le Apuane E la Garfagnana Fenomeni Potranno assumere Anche carattere temporalesco Ma che saranno Generalmente Di breve durata Sul resto della regione Cielo in prevalenza Sereno O poco nuvoloso Nel corso del pomeriggio Cielo fra poco nuvoloso E parzialmente nuvoloso C'è la possibilità Di qualche locale rovescio Soprattutto sulle zone Appennini Che non si escludono Dei locali Isolati fenomeni Anche sulle zone interne I venti Soffieranno Debolmente Da ovest Sud ovest I mari Saranno Poco mossi Le temperature Massime In lieve calo Intorno ai 30 A 32 gradi Sulle zone interne E' tutto Per il momento Grazie per l'attenzione Ed è tutto Anche per noi Il telegiornale Termina qui Il prossimo appuntamento Con l'informazione Di TV Prato E per questa sera Alle 20 e 30 Grazie per averci seguito E arrivederci �� i 3 Per i 5 E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto '